Ultimo atto della stagione regolare e poi spazio e play-off. Il Sulmona Fuzzal si appresta ad ospitare domani gli abezanesi della Fenice, freschi vincitori del campionato di Serie C2 con una giornata di anticipo. La squadra di Benjamin Fonte lotterà per conquistare il secondo posto, sperando in un passo falso del calcetto avezzano che, avanti di un punto, sarà impegnato nella trasferta contro la Sportmania. I biancorossi, pur se dovessero finire in terza posizione, sabato 6 aprile, disputerebbero comunque la semifinale play-off in casa, perché non corrono alcun rischio di essere raggiunti dalle formazioni che si trovano alle spalle Virtus San Vincenzo Valleroveto e Nobel Boys. Una delle due, tra rovetani ed adriatici, sarà l'avversaria dei Sulmonesi nei play-off. Quest'ultima giornata di campionato sarà dunque utile per determinare la griglia degli spareggi promozione. In vista di questi appuntamenti decisivi, allenamenti intensificati e pensiero ovviamente già rivolto ai play-off, con l'obiettivo di conquistare l'accesso alla finale per la Serie C1, che si giocherà in campo neutro, sabato 13 aprile, al pallarigo piano di Pescara. Per la gara di domani contro la Fenice dovranno fare attenzione a non essere ammoniti, diffidati degli esposti e ginnetti, anche se quest'ultimo in forse per via di un infortunio. Non sarà invece della partita Giuseppe Veneziale che dovrà scontare il secondo ed ultimo turno di squalifica. Si prevede un match combattuto, in quanto la Fenice, pur se già matematicamente promossa in C1, vorrà onorare il campionato anche in quest'ultima gara a Sulmona. I biancorossi dovranno impegnarsi molto per prevalere contro il miglior attacco di tutti e due gironi della Serie C2, con 124 gol all'attivo. L'auspicio della società del presidente Roberto Cicerone è quello di avere il sostegno degli sportivi, sia nell'ultima giornata contro la Fenice che nella semifinale play-off del 6 aprile. Il Sulmona Fuzzal si trova infatti a lottare per un traguardo importante per rilanciare il calcio a 5 in Valle Peligna e chi crede nel progetto non dovrà far mancare la presenza al palasporte dell'incoronata già da domani per la sfida contro la Fenice. Calcio d'inizio alle 15.